Ciao ragazze, in questo video vi voglio mostrare e parlare della realizzazione di due ciondoli vulcani. Questo ciondolo è quello che vi avevo mostrato circa un mesetto fa e l'ho acquistato, ho acquistato il kit da Desideri di Cristallo da Ramona che ha realizzato questo bellissimo ciondolo. Sul suo sito si vende lo schema in due colorazioni, questa che vi sto facendo vedere io, che è davvero molto molto bella, sui toni del marrone e anche sui toni del azzurro blu. Adesso non ricordo bene. E comunque, insomma, lei mette a disposizione questi due kit, oppure sui può acquistare solo lo schema. Per chi l'ha comprato, quindi l'ha realizzato, può capire la bellezza di questo ciondolo. Perché io penso che fotocamera, telecamera, averlo in mano è un'altra cosa. E quindi io ho pensato, e ho anche detto a Ramona, che l'avrei realizzato anche in altri colori. Colori che lei non propone generalmente sul suo sito, perché secondo me è troppo bello per essere soltanto fatto in due tonalità. È un po' il nome che ho dato a questo video, insomma. E quindi mi sono messa, avevo già in casa del materiale, mi sono messa a pensare che altri tipi di colorazioni potevo fare. Partiamo dicendo che secondo me sta bene farlo con qualsiasi colore, perché è talmente bello. Io però vi mostro quello che ho pensato, quindi quello che ho realizzato per ora. Allora, mettiamo giù il primo. Inizio con il mio preferito in assoluto, per un po' per i colori, ed è il bianco e il nero. Guardate, guardate che meraviglia. È bellissimo, stupendo, è stupendo. Ho messo dentro un Rivoli da 14 jet e ho giocato sulle tonalità del classico nero di un bianco perlato. È, ragazze, bellissimo. Dal vivo è ancora più bello, spettacolare. Sarà che l'ho realizzato con dei colori che io amo, però è veramente bello, veramente, veramente bello. Poi ho semplicemente messo, come in quello precedente, un cordino nero di raso, perché, veramente, per richiamare un po' il colore. È bellissimo, è indossato, fa una scena allucinante. Successivamente, anzi, prima del bianco e il nero, ne ho realizzato uno, giocando sui colori, questa volta del rosa, un altro colore che comunque io amo, preferisco. Allora, in questo caso ho messo un Rivoli Crystal, normale, e ho giocato sui colori del rosa, del bianco perlato, e ho utilizzato questi bellissimi Swarovski che mi sono innamorata, che, se non ricordo male, quelli che vi avevo già mostrato in qualche video fa, che ho acquistato nel negozio a Malnate, qui a Varese, ma, veramente, diverso tempo fa. E, se non sbaglio, è il Fire Opal AB? Sì, qualcosa del genere, adesso non ricordo bene. Comunque, dà delle colorazioni che sono veramente spettacolari. Ragazzi, è bellissimo anche questo. Io, invece, per questo, non avevo un nastrino di raso bianco, ma proprio bianco bianco. Avevo solo un po' di organza bianco, però era un po' troppo trasparente per i miei gusti, quindi non mi finiva di piacere. Per ora, ho messo dentro una semplice catena. Ma anche questo indossato fa la sua figura. Quindi, io, ragazze, rinnovo quello che ho detto. Cioè, è troppo bello per essere soltanto realizzato in due colori. Quindi, per chiunque ha comprato lo schema e per chiunque vuole comprare lo schema, il mio consiglio è quello. Fatelo anche in altri colori, perché è veramente bello. Ramona, ripeto, ha realizzato un ciondolo veramente, veramente bello. Niente, io con questo vi saluto. Mando un bacio e... Niente, sono belli. Alla prossima, ciao!